Il flusso automobilistico al senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico non piace a molti pendolari che ogni giorno percorrono la trignina utilizzando la galleria Serre che essendo lunga circa due chilometri il semaforo che si attiverebbe avrebbe tempi molto lunghi con attesa snervante degli automobilisti in transito nei due sensi di marcia. Durante la riunione svoltasi in provincia a cui hanno partecipato l'ANAS, la Polizia Stradale, i sindaci dei comuni di Carpinone, Sessano, Capracotta e Pescolanciano oltre ai consiglieri provinciali si è presa la decisione del senso alternato di marcia. Nel corso dell'incontro il consigliere provinciale Claudio Falcione ha espresso le sue perplessità sulla scelta del flusso veicolare alternato. Questa soluzione è una soluzione che ritengo particolarmente delicata perché in caso di incidente stradale, di tamponamento e quant'altro si verificherebbero dei grossi problemi per l'accesso, per il soccorso e così via. E poi dopo c'è anche da rappresentare che un'eventuale emergenza dall'Alto Molise verso i Sernia troverebbe all'altezza di Sessano troverebbe un semaforo con una fila. Quindi ci sono vari aspetti che devono essere presi in considerazione per giungere ad una distribuzione idonea del traffico in occasione di questo segno. Quindi regolare con un semaforo ci vedono anche code lunghissime perché la galleria è anche molto lunga quindi sdervante anche per gli automobilisti. In effetti la galleria è lunghissima, una delle più lunghe, 1800 metri, ma la cosa che deve essere rappresentata è che la carreggiata stradale verrà divisa a metà, quindi non si va su tutto quanto la carreggiata, ma una metà viene utilizzata per i lavori di impianto antincendio ed altro dall'ANAS. L'altra metà viene utilizzata e quindi sarà una larghezza non oltre i tre metri, verrà utilizzata dal flusso veicolare. Però pensiamo che cosa può succedere in occasione di un incidente con un serpentone stradale di auto incolonnate che si ferma una macchina, che succede? Non c'è la possibilità di tornare all'indietro, non c'è la possibilità, e poi nel frattempo potrebbe anche verificarsi che il semaforo a valle parta con il verde, quindi ci sarebbe un intasamento dovuto sia da quelli che vengono dalla parte di Sessano e quelli che vengono invece dalla parte di Serni, ecco. Grazie a tutti.